Facciamo un bacio per me e lei manda la dire al papà. Un po', non me la dà. Un po' non me la dà. Prima lo fa, bene. Che le manda a dire. Papà, addio. Oddio, che c'è? Addio. Addio, autolo. E' affilato, è la mia che le manda a dire. Non sa, che mi dico. Non sa, che mi dico. Ah, a minuto, a forza male di camporezzo. Bravo! Siamo noi, siamo noi, campioni dell'Italia, siamo noi! Papi, ciao, figli! Un minuto! 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 Oh, spogurBro today, siamo noi! Ma già te andai sotto cosiddetti? No! Un minuto con Kunst. Pepe e pensi a milano. Un minuto! Un minuto! Un minuto! Un minuto! No, come tu non hai un minuto! Un minuto con scioglie! Un minuto con noi! Bati! Non lo so, non lo so! No! No! E' preciso papà! Che cullar che è merda!